buongiorno sherry buongiorno buongiorno ormai perennemente scalzo mettiamo il pannello di fuori che carica la batteria e via eccoci dopo tanto tempo torniamo a fare una piccola passeggiata e la sherry dovremo andare di là da qualche parte c'è un monticello sono tipo 200 metri di dislivello però sono nel bosco quindi secondo me si sta anche bene c'è una bella differenza di temperatura tra il bosco e campo aperto col sole diretto e quindi andiamo a fare due passi saliamo piano piano brava billone guarda che bello brava pupì qui c'è un altro di quei cosi per incendi tracce di non so cosa minchia se sale puttana merda e sulle 9 e mezza 9 40 allora vedere della larghezza qua secondo me ci salgono con i quad ormai questo viaggio è è segnato dai quad però con billone strafattibile sono anche un paio di varianti abbastanza ripide però billone seconda ridotta prima seconda non è molto sconnesso se non qui quando il terreno non ha tanti sassi comunque il grip è fantastico quando ci sono più sassi sarebbe fighissimo come già detto più volte sconfiare le gomme però in un altro viaggio ci attrezzeremo meglio c'è guardate che roba billone lì sotto quella è la strada principale là ci sono le cascate di piscia di gallo non mi fa ridere ma le cascate sono molto molto belle vi consiglio di andare a vederle si va tutto in discesa molto ripida e poi salita ovviamente molto ripida però sono molto belle sono molto molto alte sono un po nascoste e non si vedono da lontano bisogna per forza fare questo trekking però nel bosco secondo me mattina o tramonto tanta roba forse meglio ancora mattina per la luce e secondo me qui arriviamo in un posto mega panoramico fighissimo oltretutto almeno prima qua sotto prendeva anche 5 g quindi potrei pensare di salire qua e venire qui a lavorare e poi adoro le felci così trovato lo spiazzo a se si vede anche di là è una bomba cazzo e ieri avevo quella roba di dire andiamo a esplorare però lì sotto c'è il divieto qua non passa un cazzo nessuno controllare però ha detto a me facciamo i bravi però avrebbe stato ancora più figo anche roba pure all'ombra bellissimo cazzo che bomba brava pupi abbiamo già bevuto una volta siamo a 28 minuti siamo a 1160 metri dovremmo quasi essere arrivati i boschi così personalmente mi fanno impazzire sono bellissimi poi non so però almeno in piemonte non ci sono tante felci così mi ispira come ambientazione è figo oggi se tutto va bene arriva quel pacco però devo dire la verità mi fermerei qua volentieri anche perché ho l'acqua per lavarmi ho l'acqua se per sbaglio mi viene voglia di acqua ho le birre non ho il vino ma birre ne ho tante da mangiare ho fatto la spesa ieri direi top ma tra l'altro poi farò un recap però ovviamente questo un viaggio piuttosto costoso fino ad oggi ho speso circa 3.000 euro perché farlo spesa costa tanto perché non ho vizi e quindi quando vado a fare la spesa meno sbatto il cazzo di quanto costa la roba perché me lo posso permettere vaffanculo se spendono 100 euro in più al mese 200 300 quanto cazzo è poco male non vuole essere un atteggiamento da sborone però è solo per dire che ognuno ha i propri vizi c'è chi in una vacanza spende 6 700 euro di ristorante per me questa è la mia vita e faccio la spesa senza sbattermene tanto questo non vuol dire che io sia pieno di soldi o che butti via i soldi però fare la spesa qua costa parecchio e quindi o così o così e poi benzina tanta 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 ho speso più di 1200 euro ad oggi però poi farò un video dove parlerò di tutte le spese a fine viaggio visto che starò ancora un po e devo comprare ancora il biglietto di ritorno tutto ciò solo per dire in qualche modo per non per rispondi diciamo per rispondere a tutti quelli che sicuramente arriveranno diranno però tu vai in quel territorio senza andare nei campeggi quindi non porti soldi non è proprio così non è esattamente così poi considerando sempre che uno può fare quello che vuole non è che se andare in un territorio vuol dire per forza andare nei campeggi altrimenti uno non non supporta l'economia locale che caldo puttana merda che caldo ma se noi siamo arrivati tra l'altro se la si apre la vista verso il lago dell'ospedale cosa che potrebbe succedere impazzisco veramente tanta roba poi mi chiedo come possano esserci tre massi così uno impilato sopra l'altro come se fossero stati messi assurdo allora non sa che più avanti di così non si può andare o meglio qua c'è l'altra strada che va giù però poi c'è da dire che con billone salire di qua è assolutamente fattibile quindi magari si può arrivare fino in cima la puntata niente di che un mille due però dovrebbe essere abbastanza alto rispetto alle montagne attorno quindi secondo me potremmo godere di una bella vista vediamo dai scegli dai che siamo arrivati ma fai la cacca pipì pipì ho billone qua all'ombra comunque è assurdo che con un mezzo del genere proprio cambia totalmente il punto di vista cambiano i limiti cambia tutto c'è ah no ma una mezza traccia qua c'è si arriva in testa raga a parte che la c'è pure la strada più bella che arriva lì no vabbè si può arrivare qua con billone uh che aria fresca che aria fresca si può arrivare qua con billone madonna che roba che roba sto male sto male allora da billone noi vediamo quello vuol dire che noi siamo lì sotto è magnifico di qua veramente bellissimo no vabbè ma qua wow ci avevo preso ecco il lago dell'ospedale pazzesco wow wow portovecchio la incredibile tutta la costa est bellissimo wow di là dovrebbe esserci la costa verso propriano secondo me quella città che si vede il propriano e si vede il mare leggermente perché c'è un po' di foschia ma insomma siamo lì c'è lì c'è lì stai lì arrivo ferma ferma lì arrivo ferma che roba incredibile bellissimo in che ci sono i quad comunque di qua ci passo senza problemi mi devo allargare tanto qua poi stringo il fatto è che senza specchietti non è facile gli ho sempre dati così per scontati perché boh sono lì li guardi però ti aiutano un sacco soprattutto con un mezzo così lungo non ti asso nei quad e niente però senza specchietti è un po' un casino ma comunque diciamo che ho imparato a prendere abbastanza le misure si fa si fa anche senza ecco no 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 l'ho fatto ma tutti quei bidoni la sono per l'acqua in casa di un cegno vero no no l'estate in corsica edito ciao grazie ah invece il tipo è stato gentilissimo mi ha solo detto sei tu il padrone ci sei tu quello col mezzo detto sì sì ma fai solo occhio ai fuochi e io gli ho detto no guarda ho evitato perché so com'è la situa e mi ha confermato che questi bidoni qua sono per l'acqua comunque acqua più prodotti chimici che usano per spegnere eventuali incendi ah salgono su di là anche loro e boh anche loro abusivi ma sì che poi abusivi cioè c'è una strada non capisco perché chiuderla eccoci qua con billone vediamo un po' com'è la batteria ma secondo me è carica full anche perché sono le 11 e 29 quindi è da tre ore che lavora a 250 300 watt ogni ora carica 300 watt ora quindi secondo me siamo full 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 vieni qua che c'è l'acqua sherry qua acqua lì vai che poi la cosa più importante che ho imparato vale un po' secondo me in tutti i posti perché è molto meglio la sincerità piuttosto che il prendere in giro soprattutto quando è abbastanza palese che sia in un certo modo qui ho imparato che tipo questo qua mi ha visto a 100 metri da billone potevo anche essere in giro per i cazzi miei come prima incontrato tre a piedi ok sei tu che hai dormito lì sì senza dubitare quando tu fai vedere che non stai dubitando ma sei diretto sì ho dormito lì no non ho acceso il fuoco anche perché a parte che si sarebbe visto il bracere c'è un bracere ma è di anni fa bisogna secondo me bisogna essere diretti e far capire che sai come funzionano le cose sai che in questo periodo è meglio evitare gli fai capire che anche tu ci tieni alla corsica perché è un posto che ami eccetera eccetera e loro secondo me questo lo apprezzano comunque saliremo su di là e poi si passa là dietro così c'è linea c'è un bel panorama c'è l'ombra per lavorare sotto l'ombra c'è anche un po di sole per caricare ancora un po la batteria che è all'80% quindi quasi full ma ovviamente il pannello così non rende tantissimo perché avrei dovuto spostarlo bevo una coca e si riparte che caldo 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 vai villone senza paura alcuna così così senza fare manovra si sale sui muri vai millone no sbagliatissima la curva no qua è meglio non salirci è un po' un pullman da girare a volte però col fatto che ha sempre trazione uno si può anche fermare in mezzo al tornante e far manovra non è di certo come il ducatone però se uno prende bene le misure e soprattutto scala in seconda ce la fa c'è un mostro mi allargo tutto anche se è brutto lì chiudo dovrei farcela no eh sono strette queste qua occhi allargarsi e chiudo tutto si qua ci sto mi allargo qua ah brutto brutto lì e chiudo e ci sto non sembravano così strette qua dovrebbe esserci una variante che vorrei fare però è ripida la faccio in prima questa è bella verticale bella verticale bella verticale ma il billone piano piano cazzo io ne frega qua c'è un ceppo del cazzo in mezzo ai coglioni vediamo se riesco a evitarlo o mi devo fermare ah boh vabbè scusa ogni tanto gratto ma secondo me schiaccia male la frizione e ancora che cazzo gratto mica non so cambiare le marce non so cambiare le marce Grazie a tutti. Tagliamo in mezzo Tagliamo in mezzo Un po' stretto, ecco Un po' stretto Dai, seconda, su Vai bellone, cazzo Torniamo di qua Uh, che caldo Allora, siamo arrivati Adesso però andiamo giù di là Che c'è una spiazzettina in teoria Là, sono saliti quelli con il quad? No Allora, qui ci schiaffiamo La prima ridotta e scendiamo in prima Senza fretta Controllo Del mezzo totale Tutto Tutto Giriamo tutto E ci allarghiamo Che lì c'è un albero Che calore Sì, c'è lì Tra poco siamo arrivati E ci fermiamo Bottiglie che sbattono Che passaggino Che passaggino c'è sulla roccia Stai guardando Ma qua c'è un passaggino carino Un passaggino carino Carino Minchia le giostre È già un passaggino carino Dallo Ripidino lì Senza paura villone Vai villone cazzo Uh Noi ci mettiamo Queste sono le scarpe adatte Panorama panorama Fra 3 2 1 Lago dell'ospedale Prima eravamo là Il bastione è lì Bello È passato il tizio Quello di prima Che mi ha detto Di non fare fuochi E mi ha detto Che qua Mi fa mai aperto La sbarra per passare Ah Sono passato a fianco Cioè fa ridere Che c'è passaggio a sinistra Passaggio a destra E mi chiedi Se abbia aperto la sbarra Cioè Guarda che roba che ho No perché sai Qua io pago per passare E quindi se paghi Puoi passare Dai raga Ste robe Da società Malata In cui le cose sono Sempre Non le puoi fare Però se paghi Le puoi fare Sono giuste Che cazzo Che c'è sta roba E non ha alcun senso Perché se C'è una strada E tu puoi passare Perché io non posso passare Che regola è È ovvio che qua Non ci può venire uno Con una 500 Abarth Perché Non arriva neanche la sbarra Che spacca tutto Voglio dire Ma è normale Ci vuole anche un po' di buon senso Comunque Mi fa No perché sai Qua non dormire Alla fine è stato Abbastanza tranquillo Forse era un po' Così che Non lo so Perché poi il passaggio Di lato Non era niente di che Insomma Bella Super easy Comunque è stato tranquillo Qui si vede Sempre il panorama Che si vede prima Quindi è molto particolare Perché si vede Il lago dell'ospedale A circa 1000 metri Qua siamo a 1200 E là dietro Quello è il golfo di Portovecchio Cioè Guardate che roba assurda Fichissima Allora Finito di montare il video E si sentono in lontananza I rum Anzi Già li vedo I quad Vediamo quanto Mi spaccheranno i coglioni Che loro hanno il permesso Io no E quindi loro possono stare qua Io no E io Vediamo se devo mettere il blocco dietro E salire in testa I quad Il cazzo Qua è il mio bagno Marcio Con Le sottilette Però buono Buono Ci vorrebbe un po' di Maglionese Un po' di Insalata Ma non le ho Perché a Zonza Non le vendono Dopo la seconda birra Si sta meglio Comunque Io Mi sento più sul cazzo Sti quad Basta Mi hanno rotto il cazzo Ma poi Interquad è una roba pericolosissima Cioè non ha senso Ovviamente è passato il tipo Mi ha salutato Mi ha detto Italiano English Vabbè Gli ho detto in italiano In inglese Gli ho detto Guarda Hai già passato il tuo amico Me l'ha già detto Poi voglio dire Un corso A parte che uno che ha un'attività Di affitto quad E non sa parlare inglese Di base Se sei ignorante come la merda Perché se vuoi vivere di turismo Per quanto tu possa avere le tue idee L'inglese devi saperlo parlare Vabbè Togliamo questo discorso E poi italiano No 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 Ma come Se è un corso Non capisci italiano Io non vorrei che secondo me Tanti vengano a lavorare Per la stagione E siano francesi Secondo me è così Però mi ha cagato il cazzo Però c'è anche da dire Che con tutti gli sterrati Che ci sono in Corsica Ce ne andiamo Altrove Troveremo uno spot Altrove E quindi Ma che cazzo me ne farei Comunque questa è la dimostrazione Che i quad Mi stanno incredibilmente Sul cazzo Perché se non ci fossero i quad Qui nessuno mi avrebbe rotto i coglioni Qui la forestale Secondo me non passa Ma neanche Se la forestale Dovesse passare In tutte le strade Stiamo parlando di Di una questione Di statistica Di sfortuna Cioè Quanti sono i casi Che possa passare Questa sera La forestale A controllare Uno su Però Sti cazzi Noi Tra un pochino Cambiamo Il video È in carica C'è un'ottima linea Ci sono No l'ho chiuso Vabbè Tipo 60 mbps In upload Che è Molto 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 Se il pacco non arriva Ordino il biglietto Di ritorno Perché mi sono rotto Il cazzo di aspettare Questo pacco Ciao Allora Ce ne andiamo via Qui è Quello ripido Però Prima ridotta Ce allarghiamo Bene Pedale sul freno In caso In cui Dovesse scappare Beh Bella Ci sono un paio Di passaggi Belli cazzuti Vai Shery Tieniti forte Bisogna metterti La cintura Da fuoristrada A quattro punti Qua così Sherina 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 Allora La sinistra Alvero Quindi Ci allarghiamo Subito Anche se Qua è un po' Più scassato Ma Ce ne sbattiamo Sembra Tutti Questi laterali A me Fanno una paura Mi dà un senso Di dare il giro Che non potete capire Eh qua comunque Portare gente Che non ha mai guidato Un quad Eh Minchia Peso Il quad Muori Qui Destro Si Anzi E dirò Dritto così Salgo sulla roccia Poi qua Frizione Freno Seconda Frizione 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, bello sto passaggino qua. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Che cazzo vuole il tipo? È aperta la sbarra. Ah, però qua c'è un cartello, mi sa. Se l'ho scritto tipo solo quelli che hanno diritto. Eh, quindi qua teoricamente ci posso stare. Eh, infatti. Portiamo via il cartello. Una volta l'ho pensato. Ci vuole il flessibile a batteria, non lo devo comprare. Così risolviamo i problemi. Terzo ovviamente. Cioè, una base di verità c'è, però non credo che lo farò mai. Stacco solo quelli che hanno le ditte. Niente raga, sono passati tipo 600 metri e ho già preso un'altra pista. No, ma che figata sono le piste qua. Dai, su. Mucca e wild. Allora, ho fatto il carico dell'acqua in un posticino molto carino. Ho anche messo billone impennato. Mica che è il bordello che fa sto motore, comunque. Che fa il bordello, metti la terza e comunque... Piano piano. Vabbè, andiamo verso le piscine naturali di Cavo Rosso. Taglio Rosso, no. Cavo. Taglio Rosso, Cavo. Vabbè, una roba del genere. Forse sono due diverse, nella stessa zona. Comunque, facciamo la stessa traccia che abbiamo fatto l'altro ieri, per Luviu. Non Liviu. Luviu. Le bergerie. Poi da lì andiamo giù. E secondo me è uno spiazzettino carino lì in mezzo al nulla. Sono tipo 7-8 km di pista, quindi un posticino magari con vista vicino al bosco dovremmo trovarlo. E qua? E' sto pasticcino bello? Minchia che bello. Allora. No vabbè. Maialettino! Sto cercando dove andare e non so ancora bene, però proseguo un po'. Non vorrei abbassarmi troppo perché poi potrebbe fare caldo e quindi vorrei stare comunque in quota. Oddio. Ma che cos'è? Vieni che facciamo il panino. E' pieno di maiali così. Comunque, il livello è questo. Roccia molto simile a quella che c'è a Bavella. Infatti non siamo lontani da lì. Però la strada continua e arriva giù fino a delle piscine naturali fighissime. Però la sale. Quindi magari voglio un posto col panorama. Beccati sto arcobaleno fichissimo, cazzo. Cazzo che bomba. Bavalleno. Grazie. 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 Speriamo. Allora come non detto mi sono fermato al parcheggio che avevo trovato perché in effetti era stretto non aveva molto senso proseguire erano comunque due posti molto simili solo che a volte nella mia testa mi impongo di raggiungere un certo posto con una certa mi immaginavo un tutt'altro posto molto più panoramico più in alto eccetera eccetera e vabbè va bene così però qui c'è una pozza minchia è assurda l'acqua salata. Sarà gelida solo che ho caldo e mi tuffo subito così al volo e via. Sono andato a vederla un attimo prima di portarci sherry è una roba finta cioè sembra pazzesca veramente pazzesca sarà congelata l'acqua eccola lì guardate che roba non so bene da dove si scende qua c'è un sentiero ben segnato quindi probabilmente perché da qui si arriva da cavu e quindi secondo me la gente che vuole camminare lascia la macchina a cavu si va di qua e poi ci arriva a piedi mamma mia oh mamma che roba oh oh domani cazzo solo che congelata sherry secondo te ce la faccio entrare o faccio la pussy la pussy no vabbè che meraviglia che meraviglia lì c'è pure la spiaggetta andiamo sherry andiamo a fare il bagnetto andiamo a fare il bagnetto vai sherry tutta tua no vabbè che roba pazzesca che roba pazzesca tutta per me no vabbè incredibile wow non entrisci lì vuol dire che è fredda fredda allora vabbè vabbè pensavo molto 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 peggio ma molto 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 oh che roba incredibile qua è pazzesco questo posto dopo tre ore di fuoristrada arrivare qua è un regalo veramente bellissimo minchia lì è stra profondo no vabbè è pazzesco qua che roba minchia qui con questa luce scura porca troia domani ci veniamo domani con la luce qua è verde bella lì si torna a casa dopo un bel bagnetto devo dire io le mie storte ah bello bello quel dolore era un po' che mi è andato forse l'ho ancora salvata comunque un bel bagnetto l'acqua ma l'aspettavo molto più fredda questo posto non è niente di speciale però a volte bisogna accontentarsi metto la tenda qua così è abbastanza in piano picchetti non li monterò mai più perché sicuro lì è un delirio però sono abbastanza protetto dal vento quindi non mi serve che ci siano chissà che insomma pali messi eccetera eccetera ciao raga ci vediamo domani bella ciao 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 ciao